Abbiamo condiviso con tutti i miei colleghi intanto un obiettivo comune, quello di evitare un ulteriore precipitare della situazione, non soltanto in Crimea ma anche nella parte orientale dell'Ucraina, evitare quindi un vero e proprio atto di invasione militare che ci auguriamo possa non accadere in queste ore, evitare la divisione del paese, sappiamo che è un paese molto diviso e sarebbe chiaramente il peggiore scenario che possiamo ipotizzare quindi lo sforzo di tutti è volto ad evitare che il paese subisca una lacerazione al suo interno ed anche ad evitare a livello internazionale scenari da guerra fredda che con l'acuirsi dei toni potrebbe portare a conseguenze anche su altri scenari internazionali. Quindi direi che la parola d'ordine comune a tutti è stata de-escalation, cercare di usare in queste ore cruciali tutti gli strumenti diplomatici e politici per abbassare i toni, tenere committed, engaged la Russia a non compiere ulteriori passi ed anzi tornare indietro rispetto a quelli che ha già fatto. Su questo siamo consapevoli tutti quanti del fatto che la forza del nostro messaggio non sta tanto nell'alzare toni ma nel parlare tutti con una voce sola. Da questo punto di vista c'è stata un'unità sia in ambito oggi Unione Europea ma anche nei giorni scorsi, qui rispondo forse a già una domanda, anche in ambito G7 e in ambito Nato. In particolare abbiamo discusso della necessità di sostenere i sforzi diplomatici, l'ho già detto, il governo e la popolazione dell'Ucraina, il che significa sostenere il governo ucraino nell'essere più democratico, più inclusivo possibile e la popolazione ucraina perché sappiamo benissimo che c'è una sfida economica finanziaria davanti che rischia di essere molto seria e molto grave. Ci sono state in particolare delle proposte che verranno probabilmente esplicitate, su cui si lavorerà nei prossimi giorni, rispetto alla creazione di un contact group, di cui alcuni di voi hanno riportato anche nella serata di ieri, il tentativo, in queste ore sembra difficile, di facilitare contatti diretti tra Kiev e Mosca e l'esplorazione della fattibilità di una missione di osservatori internazionali, in particolare OSCE, nell'est ucraino e in Crimea.